Sfidami! Ce le hai i coglioni per farlo? Benvenuti ragazzi al giorno 1 di una sfida con me ma soprattutto con voi stessi che vi farà rendere conto di cosa significa veramente combattere, impegnarsi ed essere disciplinati per raggiungere un obiettivo. Ovviamente si parla di HIT, è una challenge che sarà basata sulle regole fondamentali dell'allenamento, quindi non è che ci inventeremo i draghi. Quindi parleremo di nutrizione, di scelte senza ossessioni, ma prima di entrare nei dettagli di questa sfida, ecco le regole. Non puoi partecipare se sei un bigotto o una bigotta che si scandalizza per le parolacce, io ne dico tantissime. Sia perché sono toscano, e quindi ringrazio a Dio che non bestemmio, però sembra uno simbolo, ringrazio a Dio che non bestemmio, sia perché io terrei a non fidarmi troppo di chi le parolacce non le dice. I linguaggi edulcorati ve li lascio a chi vi ha preso per il culo finora, promettendovi cose gratis che in realtà potevate ottenere rimettendoci un rene. Io tutto quello che vi proporrò lo farò gratis. Poi se comprerete libri, videocorsi, vi abbonerete alla mia piattaforma, se vorrete fare acquisti tramite me, ne sarò ovviamente felice, ma sarà una scelta vostra. Non puoi partecipare se pensi di potermi tartassare in via privata, in DM, su Messenger, via email, per farti personalizzare la sfida come se fosse una consulenza gratis. T'attacchi al cazzo bella mia o bello mio, è gratis perché mi aspetto che tu utilizzi un po' di materia grigia, che cercherò ovviamente di pasturare, è una cosa che faccio ormai da quasi 10 anni. Se non la vuoi usare, sono affari tuoi, non uso la mia a mie spese perché non ne hai voglia tu, non sei il tipo che può affrontare una challenge. Non puoi partecipare se ti farai mille pippe su questo non posso farlo e questo non sono in grado di farlo e qui e qui e là. Allora, io non vi proporrò tripli carpiati o bungee jumping, è banalissimo annelamento e dieta. E siccome faccio questo lavoro sia tramite Movers che tramite consulenze private online da un bel po' di anni, so come riuscire a dare le indicazioni per far sì che le cose possano essere personalizzate. E con l'HIT è molto più semplice che altre discipline. Ma devi anche considerare che devi dare al tuo corpo un motivo per cambiare perché se fai cose che già sai fare, che non ti fanno provocare fatica, sudore, dolore e lacrime, rimani come sei e non rompere il c***o a me. Non puoi partecipare se vuoi fare il professorino con me per quelle tre o quattro cose che hai studiato. A me se hai otto lauree e quattro dottorati non me ne frega un bene amato c***o. E non mi frega niente neanche se ti alleni da vent'anni. E men che mai mi fai paura se hai l'addome che stupisce le folle e io non ce l'ho. Ce l'ho avuto anch'io e se ora non ce l'ho è per motivi che se io te le dicessi ti andresti a sotterrare. E infine non puoi partecipare se metterai in dubbio qualsiasi cosa io ti dico di fare invece di agire. Occhio avere dubbi è sacrosanto ma come si fa coi bambini che prima di sentire loro dire mi fa schifo li obblighiamo ad assaggiare o provare un qualcosa. Io farò lo stesso con te accetterò solo eventuali obiezioni per esperienza diretta. E io per capire se hai l'esperienza diretta i modi stanzi ce l'ho. Quindi occhio se qualcosa non ti torna è perché non presti particolarmente attenzione ed è un tuo problema non il mio. Bene regole dette ora passiamo alla promessa di questa challenge cioè che cosa otterrai? Getterai delle basi utilissime per ottenere il corpo dei tuoi sogni qualunque esso sia più muscoloso o più magro. Ovviamente nei parametri di salute nessuno ti dirà o ti obbligherà a fare cose che non ti interessa fare. Ma attenzione se non ti interessa ipotesi fare squat perché le gambe se no mi diventano troppo rosse levati dai coglioni non sei per questa sfida. Ti servono le basi e anche se sei un professionista o un navigato dell'allenamento o comunque della ricomposizione corporea o della preparazione ti serve comunque fare squat. Cioè non è che ti faccio fare squat in maniera funambolica perché già lo sai fa. No se non lo vuoi fare non accettare questa sfida. Sempre per i professionisti del fitness partecipate a questa sfida però con l'istinto dell'ispirazione. Io è da 2021 che ho una piattaforma di allenamenti con migliaia di video e mesocicli al suo interno dove ci sono tantissimi professionisti che traggono ispirazione per poi fare le loro lezioni o di gruppo o individuali. Potete farlo. Ragazzi l'allenamento è un diritto di tutti. Non c'è il copyright. Questo l'ha visto da me. Per me è un onore. Altro grosso vantaggio se ti sei stufato della sala pesi. Ora non ti sto dicendo che la sala pesi non ti serva ma determinati allenamenti con macchinari, sovraccarichi di un certo tipo che comunque serve essere dentro una sala pesi non è questa la sfida. Quindi se fai dei tuoi riadattamenti e non hai risultati non è un problema mio. Ok? Creo questa challenge per chi vuole iniziare, si chiama per questo HIT Chiro, da zero a HIT Building. Visto che ultimamente ho creato tanti contenuti riguardo l'HIT Building, metodologie, spiegazioni, divulgazione, didattica, tutoraggio, eccetera. E la gente ci si vuole buttare a capofitto senza averne le basi. No, 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 no. Cominciamo oggi. E cominciamo finendo questo ulteriore vantaggio tutto a corpo libero. Non ti sta bene? Ciao. Ecco, riguardo la parte nutrizionale, non ti aspettare alimenti miracolosi, consigli di nutrizionismo becero e cialtrone. Perché secondo me se si parte a insegnare alle persone a mangiare sano escludendo cibi, ecco, quella è una cialtronata che molti professionisti, quelli proprio abilitati, ce ne sono anche tanti bravissimi, abilitati a insegnare appunto queste cose dovrebbero anche loro cambiare paese e cambiare nome. Si aggiusteranno un paio di cose e vedrai che non c'è bisogno di fare il voto del digiuno. Assolutamente. Ah, piccola nota a margine. Se siete adesso o avete intenzione di fare una chetogenica, bravi coglioni, perché non potete fare niente con una chetogenica. Fate solo la chetogenica. Non dico più se è giusta o sbagliata, perché ho fatto video per anni sul fatto che la chetogenica sia utile in un contesto e inutile in maggiori contesti, ma è un problema vostro, quindi posso fare se faccio la chetogenica, ti rispondo no. E se me lo chiedi nei prossimi video, ti linko questo video, anche perché il focus principale, bello sto gesto, il gesto del carciofo, è l'allenamento. E in chetogenica ti alleni di merda, che tu lo voglia o no, anche se ho sentito dire che quello faceva no, no. L'HIT, in chetogenica non si fa. Detto questo, potete partire? Spero di sì, per me è stato un periodo un po' diciamo problematico, chi mi è vicino sa. Ma come io adesso decido di sbattermi nel cazzo di tutte le scuse, perché molte erano scuse, che mi hanno portato ad ottenere un fisico di merda in questo momento, beh, lo potete fare tranquillissimamente anche voi. Non sto misurando chi giudica più o meno grave la propria situazione, semplicemente è una scelta. Anche io lavoro tanto, ho figli, ho una casa, sono pieno di dolori, sono vicino ai 50, mille casi, ma come moltissimi di voi. Però io ho due braccia e due gambe, anche come moltissimi di voi. E se lo faccio io, lo potete fare anche voi. Ogni allenamento avrà ovviamente più versioni di ogni esercizio, perché? Perché non tutti partiamo dallo stesso punto. Io ho una certa esperienza nell'allenamento, anche se ora sembro un pachiderma, ma comunque le cose mi riescono ancora abbastanza bene. Quindi cercherò veramente di essere utile su scala globale, anche se fondamentalmente, lo so, questa sfida la faremo in sei. Bene, questo video introduttivo finisce qua. Metti like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina, così saprai quando pubblicherò il prossimo video, dove parleremo di dieta. Anzi no, parleremo di come pulire il frigorifero, ma non con acqua e aceto. Vedi, vedi che casalingo che sono? Di come fare a meno di tutte le schifezze che sono dentro al frigo, anche se abbiamo dei figli.